Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Rassegna Stampa, il nostro di prima mattina, il buongiorno insieme ve lo porge il Duca d'Atri, Gianluca, Gianluca Ezzoni che è di là in regia, andiamo a cominciare per questa giornata, è la vigilia di Ferragosto, mercoledì 14 agosto, domani ci rilasseremo, intanto andiamo a dare un'occhiata agli argomenti principali, cominciando da quelli di carattere nazionale e internazionale, dando un'occhiata ai siti web, cominciamo con quello dell'ANSA, eccolo qui benissimo inquadrato e messo in onda dal nostro Gianluca, vedete i temi caldi intanto sono Iran, Israele, Ucraina, Musk, Trump e GONU, vediamo l'apertura del sito dell'ANSA, c'è una foto di Vladimir Putin e questo è il titolo Biden informato da Kiev sull'offensiva nel Kursk, è un vero dilemma per Putin, dichiarato lo stato d'emergenza nella regione russa di Belgorod, nella notte droni ucraini su tre oblast, gli Stati Uniti dicono Putin disperato, pericolosa l'alleanza con la Corea del Nord e poi Zelensky, avanziamo nel Kursk, controlliamo 74 comunità. E poi ancora in Medio Oriente, quello che succede in Medio Oriente, l'Iran non colpirà solo se i colloqui porteranno a una tregua, a Gaza, Meloni sente Netanyahu, serve de-escalation e cessate il fuoco per la Presidente del Consiglio italiano. Guerra in Medio Oriente, tutti contro la scelta del Ministro Ben Guirre di salire sulla spianata delle moschee. E poi quello che è successo al murales che raffigurava la campionessa Egonu, vandalizzato il murale dedicato a Egonu, spray rosa sulla pelle, poi un passante ridipinge il murale di Egonu vandalizzato, vedete qui le foto al centro, appunto quello vandalizzato con una vernice colore rosa sulla pelle di questa rappresentazione e poi quello ripristinato. Andiamo ancora avanti, in primo piano green and blue, mari e lag italiani, il 36% è fuori norma di inquinamento, nei bacini lacustri i campioni fuori dal limite aumentano del 10% e poi qui a destra il Ministro dei Trasporti Salvini, treni puntuali al 90%, malgrado 1.400 cantieri. Il meteo è ancora picchi di caldo, poi da Ferragosto arriva una breve pausa. L'annuncio via social, Paltrinieri dice, mi sono fratturato un gomito, tornerò presto, lo vediamo appunto nella foto ripresa dai social, l'annuncio via social alla cerimonia di chiusura, ma sono stato già operato. E poi andiamo al colonnino dell'ultima ora, sul sito dell'ANSA, alle 6.40 Biden informato da Kiev su Kursk, un vero dilemma per Putin, 6.14 Ucraina, regione russa di Belgorod dichiara lo stato d'emergenza, 5.07 Giappone, Kishida lascia corsa a guida del partito al potere. E poi quest'altra notizia, il gesto di solidarietà dei giocatori di una squadra svedese, il capitano del calmar ha il cancro e i compagni di squadra si rasano tutti i capelli a zero, appunto in segno di solidarietà. E poi una curiosità, ho dato un'occhiata, ma a Roma nasce la prima grattineria d'Italia, seguirà poi Milano, un'esperienza terapeutica sensoriale da 45 a 60 minuti, cioè i grattini proprio quelli con le mani, i tocchi delicati con i polpastrelli, le unghie che accarezzano la pelle liberando da preoccupazioni e stress, si retta il primo trattamento di grattini ASMR in Italia, made in Roma, che a settembre approderà anche a Milano, quindi si potrà andare a farsi fare i grattini. Allora, torniamo sul sito, sulla prima pagina dell'Anza, però la lasciamo e andiamo a dare un'occhiata invece a Corriere.it, il sito web del Corriere della Sera. In apertura all'ultima ora, Hunter Biden è il caso italiano. Nel 2016 chiese aiuto all'ambasciata statunitense a Roma per la compagnia ucraina Burisma, il figlio dell'allora vicepresidente di Obama. Nel 2016 cercò l'assistenza dell'ambasciata americana in Italia per un progetto potenzialmente redditizio nel settore geotermico in Toscana per una compagnia ucraina. E poi Kiev a Mosca. Non occuperemo i territori, ma gli ucraini avanzano ancora in Russia, nei territori russi. Il Ministero degli Esteri dice prima ci sarà la pace, prima riavranno le loro terre. Oggi l'annuncio, 74 i villaggi presi dagli ucraini in Russia. Il caso degli F-16 in Moldavia, la regione di confine di Belgorod, dichiara lo Stato di emergenza. E poi la rivelazione, Mosca e i piani per colpire con missili nucleari obiettivi in Europa in caso di guerra. E ancora il ritratto, il generale odiato, silenzioso e micidiale, Kiev Sirski, mente dell'offensiva su Kursk. Accolta la richiesta di Kiev e venerdì il rimpatrio degli orfani ucraini ora in Italia. La protesta andranno vicino a zone di guerra. E poi il pressing americano su Netanyahu. Se c'è la tregua a Gaza, l'Iran si fermerà a Pentagono. Attacco possibile in settimana. La Casa Bianca spera che l'incontro in Qatar non sia l'ennesimo giro di discussioni, ma il momento in cui viene annunciato il cessato del fuoco dopo 312 giorni di guerra. Il Ministro dell'ultradestra, il Ministro Ben Gvir prega alla spianata delle moschee. Washington dice provocazione inaccettabile. Iranni, Pasdaranni iraniani e la guerra di nervi tra messaggi espliciti e manovre militari. E ancora la cronaca Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni, ascoltato per 5 ore come testimone. Il fidanzato di Sharon, ucciso a Terno d'Isola, è stato interrogato al comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo. L'esame è terminato poco prima delle 21. A Roma vandalizzato il murale per Egonu, la pelle colorata di rosa. La Schlein dice il razzismo fa schifo. Abodi, il Ministro, uniti contro l'ignoranza. Questi titoli principali sul sito del Corriere della Sera, corriere.it. Adesso lo lasciamo, diamo un'occhiata invece al sito di Repubblica. Repubblica.it. Guerra in Ucraina. L'analisi senza spie e satelliti, così Mosca si è trovata, il nemico ucraino, in casa. Il reportage con i soldati ucraini al di là del confine, felici di guidare un tank in Russia. La giornata offensiva ucraina nella Kursk, Medvedev duro, li puniremo, ma che ribadisce non vogliamo annettere territori, territori russi. La diretta Mosca sposta truppe da Kaliningrad verso Kursk e la regione di Belgorod dichiara lo Stato d'emergenza. Ancora Ucraina all'ordine di Kiev per impatriare gli orfani ospitati in Italia. L'UNHCR, i bambini non tornino dove c'è la guerra, la risposta. Medio Oriente. La tensione, minacce quotidiane e guerra psicologica, la strategia di Teheran per guadagnare tempo. La provocazione di Ben Gvir, il Ministro del Governo israeliano e i suoi seguaci pregano sulla spianata delle moschee e fanno infuriare anche Netanyahu. Ultime ore per la tregua, la spinta degli Stati Uniti per un accordo su Gaza. E ancora diritti e razzismo. La proposta, il Partito Democratico rilancia lo Ius Soli. Forza Italia apre un varco a destra, un testo sulla cittadinanza basato sugli anni di studio. E poi a Roma, vandalizzato il murale di Paola Egonu, vernice rosa sulla pelle, una passante, lo vedete, lo ridipinge con i colori naturali, annullando il colore rosa. L'incontro, il personaggio Elodie, la cantante, il mio corpo un inno alla libertà, nell'Italia di Meloni diritti. Sono minacciati, ha detto Elodie. Il Governo della destra, la Premier, la vacanza in Puglia di Giorgia Meloni, tra pizze dolci e bombette di carne, mentre Lollo Brigida, il Ministro e Gian Bruno vanno al discount. La spaccatura ha premierato Fratelli d'Italia Frena, la prima riforma in aula, quella delle carriere dei giudici. E poi la maggioranza, Forza Italia vuole modificare la legge Severino per riscattare Berlusconi e far contenti i figli. D'accordo anche il PD, ma non Meloni, questi titoli principali sul sito del quotidiano La Repubblica. Adesso invece diamo un'occhiata, prima di vedere le notizie locali, alla prima pagina del messaggero. L'apertura, l'offerto dell'Iran a Israele e Teheran, accordo sul cessato il fuoco a Gaza, unico modo per evitare l'attacco iraniano. Meloni sente Netanyahu, Zelensky e quindi ci spostiamo in Coraina, non vogliamo annettere il Kursk, ma pace giusta, Kiev ordine e rimpatrio degli orfani. In Italia e poi la doppia apertura, vedete il titolo con il taglio alto, sfregio al murale di Egonu, la rossa dice Dementi, vandalizzato a Roma il dipinto antirazzista, Tajani. Aggiunge, gesto Becero. E poi la fotonotizia, Totti Ilari, la battaglia dell'assegno, lei chiede di aumentarlo, lui di ridurlo. L'udienza a settembre, la cronaca delitto di Sharon, il fidanzato sentito di nuovo in caserma, l'uomo interrogato ieri pomeriggio per 5 ore come persona, informata sui fatti. E dunque questi i titoli principali. Adesso andiamo a vedere, poi torneremo al messaggero, a vedere le prime pagine del centro e cominciamo con l'edizione di Pescara. Eccola qui, l'apertura è acqua, emergenza in tutta la provincia di Pescara. A Pescara ha attivato il centro operativo comunale, l'area Vestina in ginocchio. La fotonotizia, le gite fuori porta in sicurezza in Abruzzo per il Ferragosto, grigliate di Ferragosto, regole e sanzioni, ovviamente soprattutto per accendere i fuochi e fare magari la carne o gli arrosticini alla brace. Gli altri titoli. La piccola di 11 mesi è grave, il dramma che si è consumato a Mosciano, bimba rischia di annegare nella vasca, genitori indagati. La tragedia di Alba Adriatica, uccisa dal fulmine, adesso la Procura indaga sui soccorsi e l'incidente a Giulianova cade dalla bici, 17enne e grave, ipotesi, auto pirata. Siamo a Sulmona, stacca a Morsi l'orecchio a un carabiniere arrestato, 46enne evaso dai demociliari, l'aggressione alla richiesta di documenti. Pescara vertici a Roma, caserma Ateneo, caso dal Ministro, trattativa per il futuro delle sedi di Vigili del Fuoco e Università. Ancora Pescara precipitato in montagna, autopsia sul 56enne, poi il calcio, il calciomercato, la Serie C, il Pescara valuta anche l'attaccante Marconi. Abruzzo, Confindustria, Pagliuca dice che con le infrastrutture si sviluppa il centro Italia. Poi ci sono altri due titoli sotto la testata, eccoli qua. L'arrivo dei profughi a Ortona sbarcano 64 migranti, i racconti delle violenze sopportate in Libia. Canistro, 12 ore di agonia, Orso investito e ucciso sulla superstrada, il parco, l'enteparco che dice troppi episodi ormai. Lasciamo la prima pagina dell'edizione di Pescara e passiamo a quella di Teramo. Alba Adriatica, l'apertura purtroppo è dedicata alla tragedia di Alba Adriatica, morta per il fulmine, c'è l'inchiesta, la Procura indaga sui soccorsi dopo l'esposto dei familiari donati gli organi della donna. E ancora la bimba che rischia di annegare, il dramma a Mociano rischia di annegare nella vasca, i genitori sono indagati, la piccola di 11 mesi è grave. L'emergenza a Silvi, Silvi senza acqua, il Sindaco ottiene le autobotti e poi Tortoreto e Silvi, sicurezza e igiene, scattano sanzioni per due locali. Il titolo di Sulmono, lo stesso che abbiamo visto nelle edizioni di Pescara, stacca a morsi l'orecchio a un carabiniere, è stato arrestato un 46enne evaso dai domiciliari. A Giulianova l'incidente cade dalla bici, dalla bicicletta a 17enne, è grave, non si esclude che possa essere stato investito da un'auto pirata. E poi Teramo, città deserta, risentiamo del calo del turismo. E poi il calcio, il calcio di serie D, Teramo, re dell'estate, battuta anche l'Andria in amichevole e poi i titoli sotto la testata sono gli stessi che abbiamo già visto. Lasciamo la prima pagina dell'edizione di Teramo e approdiamo a quella di Chieti, Lanciano, Vasto e siamo proprio a Vasto, Acqua, chiesto lo stato di emergenza, vertice sindaci Sasi sulla carenza idrica, al lavoro un tavolo regionale e poi la fotonotizia sempre la stessa, quella per le regole sulle grigliate di Ferragosto, regole e sanzioni. E poi i titoli, li vedete qui a sinistra, sono quelli di Crona che riguardano tutto il Terramano e c'è il dramma di Mosciano, poi la tragedia di Albadriati che è l'incidente del giovane 17enne, del ragazzo che è caduto dalla bicicletta ed è grave. Veniamo invece ai titoli diversi, cioè quelli della realtà teatina, eccolo qui, la decisione a Torre Vecchia Teatina, gli autovelox solo con i vigili, multe in presenza degli agenti, il 99% pagate entro 5 giorni. Chieti, il sindaco dice, i gettoni di presenza per il sociale, vadano al sociale. E poi il calcio di serie D, Chieti, Ferro prende il 50%, a Serra resta l'altra metà, lasciamo anche la prima pagina del centro edizione di Chieti e l'ultima è quella aquilana, l'Aquila, Avezzano Sulmona, l'apertura è dedicata all'Aquila e alla perdonanza, biglietti andati a ruba, ma c'è chi è rimasto in attesa per ore sotto il sole o davanti allo smartphone. E poi ecco qui in fondo i titoli diversi rispetto alle altre prime pagine, l'Aquila, in città resterà la copia digitale, vai on, le carte vanno a Belluno, gli oltre 5 mila atti originali non tornano all'archivio di Stato. Gran Sasso precipitato per 300 metri, oggi prevista l'autopsia e poi da Avezzano, controlli di vicinato, lanciata la campagna. Lasciamo il centro, adesso torniamo al messaggero, andiamo a trovare insieme la prima pagina del quotidiano, la prima pagina del messaggero d'Abruzzo, eccola qui e vediamo subito l'apertura ferragosto pienone di turisti, esodo in tono minore, capoluoghi affollati, non soltanto mare, presenze anche in montagna, domani tante proposte di divertimento dal trekking alle gite in canoa alla movida pescarese. E poi la fotonotizia, lo vedete, l'orso investito, incidente a canistro, orso investito e ucciso sulla superstrada, sulla superstrada dell'Iri, colpita dal fulmine, in spiaggia morta Pamela, niente defibrillatore, il marito denuncia, prelevati gli organi, morta dopo 9 giorni trascorsi in rianimazione Pamela Di Lorenzo, la vedete nella fotografia, la 42 anni colpita da un fulmine sulla spiaggia di Albadriati, il decesso ieri notte, il giorno dopo la dichiarazione dei medici di morte cerebrale, la donna lascia il marito e un figlio minorenne, lavorava in un'attività di famiglia, davvero una tragedia. A Sulmona stacca con un morso l'orecchio al carabiniere, Raptus durante un controllo e ancora gli altri titoli, spopolamento 12 comuni senza bar e negozi, questo per lo spopolamento delle aree interne, per trovare il distributore di benzina più vicino bisogna percorrere decine di chilometri, poi ci sono gli sportelli bancari che continuano a chiudere, negozi e bar con le serrande abbassate, la connessione a internet veloce che pare un miraggio, vivere in uno dei piccoli borghi abruzzesi può diventare un'odissea. Gli altri titoli, Pescara, Emergenza, Siccità, sì ai serbatoi idrici sulla riviera, come a Silvi, anche se lì siamo in provincia di Terra, ma il problema dell'acquedotto Silvi non è servita da Ruzzo e poi Chieti, Malore, Stronca, un meccanico a Santo Domingo. Ancora gli altri titoli, qui sotto la testata, i concerti, Vecchioni e Ruggeri, grande musica oggi e domani a Roseto e ad Alba Adriatica e poi l'Aquila per donanza, tutti in fila per comprare i biglietti, il calcio di Serie C, Pescara, Caccia e Rinforzi, Pizzari può andare a Venezia. Bene, noi giriamo pagina, il clou dell'estate, Ferragosto, città piena e meno esodo e più turisti, le vacanze si fanno nel mare di casa o in giro nelle località dell'entroterra, domani le tante feste offerte da Pescara, visite nei borghi e escursioni nella natura, ma in tutto l'Abruzzo sarà così ovviamente come sempre. L'Abruzzo, a differenza di molte altre regioni italiane dove la città tendono a svuotarsi durante le festività di Ferragosto, mantiene vive le sue tradizioni attrattive, richiamando sia residenti che turisti in un calendario ricco, percorsi di e-bike, trekking, gite in canoa, in sella e cavalli, le proposte più allettanti, insomma ce n'è per tutti i gusti e poi l'amore sboccia sul web, poi le richieste di denaro, allarme, truffe romantiche, attenzione, la dirigente Narciso dice bisogna fare subito denuncia, bloccare i profili e non inviare più bonifici. Pescara, stabilimenti balneari autorizzati a installare altri serbatoi d'acqua, la giunta Masci in soccorso alle attività turistiche e sulle spiagge col tutto esaurito, le cisterne aggiuntive sono limitate al solo periodo dell'emergenza idrica che sta interessando appunto il pescarese. Morto sul Gran Sasso, così è precipitato la tragedia, i due compagni di escursione sotto shock, ci siamo girati e l'abbiamo visto cadere, Fabrizio Scocchia aveva 56 anni, il cordoglio dei colleghi commercialisti, qui la foto di Fabrizio Scocchia e in alto il recupero del corpo sul Gran Sasso durante un'escursione. Andiamo avanti, siamo all'Aquila, violenze al terminal bus dell'Aquila, arrestato a 17enne straniero, l'egiziano sarebbe responsabile di oltre 10 rapine e aggressioni. Ferito un carabiniere che è intervenuto dopo un inseguimento fino al castello, coltelli usati a scopo intimidatorio per derubare adolescenti di collane d'oro e poi furti nell'abitazione, ladri scatenati a Colle Pretara, colpo da 25 mila Euro, la perdonanza, scatta la corsa al biglietto, tra code all'info point e attese sulla rete per il concerto dei Poo, altri tagliandi potrebbero tornare a disposizione. E poi 300 parcheggi all'ex Caserma Rossi, il comune dell'Aquila accelera per la realizzazione. E' morto l'orso investito nella notte da un'auto, un esemplare di 20 anni ferito, avvagato per chilometri alla ricerca di un rifugio, travolto sulla ex superstrada del Liri, l'automobilista si è subito fermato. Andiamo avanti e siamo a Chieti, e-bike ora tutti in sella per spostarsi in centro a Chieti, via vai di gente nelle 18 stazioni dove poter affittare una bicicletta, sconti e le formule d'acquisto abbinate ai ticket tua, attenzione però, hai segnali. E poi addio a Tonino Piergrossi, morto a Santo Domingo, è stato il meccanico dei giovani che a Chieti negli anni 70 avevano una moto. E poi l'emergenza, acqua, è ancora emergenza, i sindaci siamo rimasti soli, siamo a Vasto, la riunione con la Sasi non rassicura i primi cittadini, poche le autobotti, il Presidente della provincia di Chieti chiede al Prefetto un tavolo permanente per l'emergenza idrica. E poi oggi l'addio all'ex calciatore Fasoli, morto dopo un incidente, in scooter lo sbarco degli immigrati, dei rifugiati, sono fuggito dalla Siria due anni, per arrivare qui ci sono anche le testimonianze raccolte in questo articolo. E siamo a Teramo, Teramo e provincia, vacanze d'agosto in città, nei locali tanti turisti, ristoranti, pizzerie e bar non chiudono, il capoluogo vitale nonostante sole e afa. Crisi economica, inflazione e rincari, fattori che spingono a restare a casa. Teramo non è più quella città che storicamente, dopo la conclusione della Coppa Interamini a luglio, si svuotava inesorabilmente, scrive Maurizio Di Biagio nel suo articolo, oggi nel pieno del periodo ferragostano le vie, complice pure qualche evento, sono ancora frequentate e relativamente piene, così come ristoranti, bar e vinerie, sono in aumento i turisti e molti cittadini preferiscono non abbandonare del tutto la città, la città di Teramo. Ancora la nuova autostazione dei bus, siamo sempre a Teramo, demolizione e ricostruzione, nell'edificio servizi igienici, sala d'attesa, biglietteria e bar, ma c'è il problema degli alti costi, stiamo stimolando una riflessione sulla possibilità, dove ci fossero le condizioni di abbattere e ricostruire l'attuale edificio dell'autostazione in Piazza San Francesco, che comprende i servizi igienici, la sala d'attesa, la biglietteria e il bar, una suggestione, ma ovviamente col Sindaco si sta lavorando, è quello che dice l'assessore Di Marcantonio. E poi, morta in casa da 4 mesi, l'addio a Franca, Franca D'Agostino, sepolta a Cartecchio, la d'Agostino, la figlia 43 anni, non se l'è sentita di partecipare all'ultimo saluto. E poi a Giuliano Vaccate dalla bici e batte la testa, grave un ragazzo di 17 anni, l'incidente è avvenuto lungo via Leorsini, a Giuliano Valido, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un ragazzo di 17 anni, mentre procedeva in bicicletta, sarebbe improvvisamente caduto a terra, battendo la testa sul marciapiede, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo, con un trauma cranico commotivo. Qui sopra schianto, moto a fuoco a Sant'Atto, quindi la cronaca, moto prende fuoco a caso di un incidente stradale lungo la statale 80 direzione Teramo, non ci sarebbero state conseguenze gravi per le persone coinvolte nell'incidente. Rischia di annegare nella vasca da bagno, grave ma stazionaria, la bimba di 11 mesi, da Perugia sono arrivati i nonni, continuano gli accertamenti dei carabinieri, sentiti i genitori. Albadriatica, Pamela, donati gli organi, il marito sporge, denuncia, morta la Di Lorenzo, Pamela Di Lorenzo, 42 anni, folgorata dalla scarica elettrica in spiaggia 9 giorni fa. Perché, dice il marito, il defibrillatore era sparito? È una domanda più che legittima. Il lutto del Paese in attesa dei funerali. 30 minuti, sono quelli che gli investigatori dovranno ricostruire nel dettaglio, tanto sono durati i soccorsi sulla spiaggia libera di Albadriatica dopo che un fulmine si era abbattuto tra i bagnanti mentre tutto intorno c'era il panico generale. 30 minuti che potrebbero aver fatto la differenza tra la vita e la morte di Pamela Di Lorenzo, che si è spenta per sempre a 42 anni, dopo 9 giorni tra la vita e la morte, su un letto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo e i familiari. Chiedono di fare luce su quanto accaduto. E poi per la donazione degli organi, il direttore generale dell'Asele di Giosì ha ringraziato la famiglia per il suo gesto di generosità. A Giulianova passeggia con il cane morso da un pitbull, aggredito e morsicato da un molosso per difendere il suo cane, accaduto nel quartiere dell'Annunziata a Giulianova, Giulianova Lido. Andiamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa, un'occhiata a tutti gli appuntamenti, lo vedete giorno e notte, grande danza con piccone all'ensemble, a Spoltore, a Pescara torna il fiume La Memoria, tanti big al Blue Bar, un'edizione super, questo a Francavilla e poi a Roseto, Vecchioni, vi aspetto a Roseto, grande concerto gratuito in Piazza Ponno, attesi stasera 4 mila spettatori per il prof, lo vedete Roberto Vecchioni. E poi ad Alba Adriatica, Alba tutto rock con Enrico Ruggeri, il cantautore, si esibirà questa sera ad Alba Adriatica in un concerto attesissimo e poi la rassegna a Giulianova torna a Prodo, musica, arti e allestimenti, ancora già che ci siamo, lo leggiamo tutti, a Peltuinum in provincia dell'Aquila, Bundabash sul palco al tramonto, l'area archeologica di Peltinum è davvero molto bella e poi mitici anni 80 con Spagna e Irigheira, l'estate nei Borghi, all'Aquila, nei Borghi Aquilani. E poi lo sport, prima di salutarci, Prizza e Rivenezia, l'asse si scalda, il portiere del Pescara nel milino del tandem di Francesco Antonelli, il delfino punta a mule e anche Finotto, in stand by gli svincolati Tuia e Capradossi. E poi Brosco, il derby, il derby perso con il Pineto, nessun dramma, serve tempo. Ed eccolo il Pineto, siamo sempre in Serie C come per il Pescara, Pineto iniezione di fiducia dalla Coppa, dalla Coppa Italia, Cudini l'allenatore dice per noi era un banco di prova, il tecnico si gode una prestazione importante, in grosso cessione molto difficile, Germinario, i-box. E poi Serie D, l'Aquila, serve il vice Belloni, il presidente russo, monitoriamo già diversi profili, la decisione finale arriverà nel giro di pochi giorni. Nessuna ripercussione dopo il KO contro la Delfino Curie, calcio d'agosto anche se vincere aiuta sempre al morale. Intanto in eccellenza Lovidiana, Sulmona, si candida per diventare la sorpresa e sempre in eccellenza il Giulianova, Finizio flerta già con il gol. Il bomber, 23 reti l'anno scorso, ha trovato una doppietta e dice la mia scelta al di là della Serie D. E poi Beach Volley assoluti in Friuli, Alfieri trionfa, dominata la tappa di Cordenons. Chiudiamo con il rugby, Angelini e Iovenitti tornano all'Aquila, gli aquilani Marcello Angelini e Stefano Iovenitti tornano a giocare per una squadra del capologo d'Abruzzo. La matricola di Serie A, la rugby l'Aquila del presidente Mauro Scopano, ha ingaggiato gli ex delle Fiamme Oro, il pilone Stefano Iovenitti e il trequarti centro Angelini. Bene, credo sia proprio tutto, sì poi non ci sono ulteriori pagine con articoli, quindi possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa, non perdete ovviamente i programmi di Super G, alle 9 non perdete a colazione, poi gli appuntamenti con l'informazione alle 14, alle 19. Vi auguro una buona giornata e un buon ferragosto per domani, arrivederci! Grazie a tutti!